Il sospetto che possano essere stati interrati rifiuti industriali pericolosi ha fatto scattare un primo sequestro a quanto emerge disposto dai PM della procura che come confermato negli scorsi giorni dal procuratore capo Fernando Asaro hanno avviato un'indagine. I sigilli sono stati apposti ad un'area dell'isola 32 che rientra nel perimetro di competenza della raffineria Eni di Contrada Piana del Signore. Di recente l'ex lavoratore Emanuele Pistritto ha pubblicamente denunciato attività di smaltimento illecito di rifiuti industriali proprio in un'area di raffineria. I vertici di Eni però attraverso una nota ufficiale del gruppo continuano ad escludere violazioni delle norme in materia. Eni prende atto del provvedimento di sequestro della procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela e auspica che questo possa contribuire a fare chiarezza scrivono proprio nella nota. Eni smentisce in modo categorico di aver praticato presso il sito industriale di Gela trattamenti illegali di rifiuti tossici o di prodotti di scarto derivanti dalle proprie attività, precisano i manager.